Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna per traffico intenso. Code a tratti ancora una volta per traffico anche verso Bologna tra Firenze Infruneta e BV1 Variante, in carreggiata opposta rallentamenti per perdita di carico tra BV1 Variante e Calenzano. Ci spostiamo sulla Firenze Mare dove troviamo coda per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est nella carreggiata verso Pisa. In FIPI lì per traffico restano code a tratti tra Ponte d'Aroves, Ponsacqua e Ponte d'Arest verso Firenze, in carreggiata opposta a coda in uscita alla Strassigna. Prima di salutarci per un incidente segnaliamo traffico intenso sulla statale 67 tra Compiobbi e Sieci. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!